Senta Commissario, per quanto riguarda invece la problematica abbastanza rilevante della scuola dell'asilo dei ragazzi di San Giovanni Bosco che adesso praticamente sembra che alcuni genitori si ostinano a non far entrare a scuola i bimbi perché temono che ci sia ancora pericolo di incolumità. Allora, il discorso secondo me ormai è superato nel senso che già a novembre è stata fatta un'ordinanza dello disgombro degli alunni dalla San Giovanni Bosco per trasferirli a un fabbricato di proprietà privata. La San Giovanni Bosco anche in questi ultimi giorni è stata acclarata, non è sicura dal punto di vista sismico. Quindi eravamo già in possesso di relazioni tecniche che comprovavano questo rischio. Ci sono state anche la rottura delle pignate che dimostra che il pericolo è concreto. Poi recentemente le scosse che ci sono state nella regione Molise hanno dimostrato che quella struttura deve essere abbandonata per quanto riguarda almeno i bambini perché parliamo di una scuola dell'infanzia. Nell'immediato si è cercato di trasferire questi bambini a un edificio privato delle società Cicchetti che è una vecchia tipografia ma è stata adeguata anche a scuola. La scelta di Cicchetti non è che è una scelta che nasce così perché si vuole favorire un privato. È sbagliato pensare una cosa del genere. C'è un contratto che scade... A parte il contratto non è questione di contratto è che tra tutte le soluzioni che sono state vagliate e verificate non ce n'è una che abbia requisiti dal punto di vista sismo che dal punto di vista igiene che possa accogliere questi ragazzi. Quindi la mia disponibilità è stata quella di non dare immediata esecuzione all'ordenanza in attesa di trovare una soluzione che fosse di gradimento anche ai genitori e alla scuola, a chi ci lavora nella scuola, parlo degli insegnanti. Questa soluzione ad oggi non è stata individuata. Per cui di fronte alla sicurezza dei bambini si è preferito ritornare a questo edificio privato in attesa, perché è una soluzione comunque transitoria. Noi abbiamo in costruzione un palazzo nuovo che si inquadra nel progetto della scuola sicura. Abbiamo i finanziamenti, sono stati già realizzati piloni antisismici, però la realizzazione, il completamento di questa scuola è prevista per il dicembre del 2017. C'è anche questa situazione sismica non allarmante. In questa infrangente i bambini non possono stare in quell'edificio. Se si trova una soluzione, diciamo, che accontenti i genitori da un lato, ma che abbia però i requisiti antisismici e igienico-sanitari, la scuola può essere trasferita.